Dal 29 ottobre al primo novembre si terrà a Ventotene una scuola di formazione rivolta ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado intitolata le migrazioni politiche nell'Italia contemporanea, definizioni, confini, proposte didattiche. Abbiamo come istituto di studi sul Mediterraneo del CNR deciso di promuovere un momento di confronto tra studiosi esperti di storia delle migrazioni e gli insegnanti che poi nelle scuole di tutta Italia promuovono e propongono i loro studenti dei percorsi didattici su questi temi. Abbiamo aperto una call quest'estate per chiedere agli insegnanti proposte di unità didattiche da essere vagliate da una commissione scientifica. Sono state selezionati dieci docenti a cui verrà rimborsato l'alloggio e il vito dei giorni avventutene e che avranno la possibilità di confrontarsi con gli istituti esperti e di discutere questi temi proprio attraverso un'impostazione puntata sulla didattica, quindi discutendo direttamente le unità didattiche presentate. È un progetto che l'ISMED promuove in collaborazione con l'archivio storico del centro di ricerca e documentazione sul confino politico e la detenzione delle isole di Ventotene e Santo Stefano all'interno di un progetto finanziato dalla struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi in questi tre giorni avremo un confronto. Le mattine saranno dedicate alle lezioni dei studiosi esperti e il pomeriggio alla presentazione e alla discussione delle unità didattiche da parte dei docenti. Tratteremo quindi la storia dell'Italia attraverso il punto di vista delle migrazioni politiche, partiremo dall'esilio risorgimentale fino ad arrivare ai giorni nostri, passando dal fascismo, dal secondo dopoguerra, con tagli diversi, con un taglio di genere, con un taglio legato agli studenti, ai profughi, eccetera. Dunque è un momento di formazione a cui teniamo molto e per questo abbiamo deciso anche di aprirlo a uditori esterni. Chi volesse partecipare può farlo liberamente. Abbiamo una convenzione anche con delle strutture per dei prezzi convenienti, quindi invitiamo chi fosse interessato a prendere contatto con il CNR attraverso i contatti che si trovano sul sito dell'ISMED, Istituto di Studi sul Mediterraneo, e quindi per accogliervi e avere un momento di scambio e di formazione più ampio a Vetotene. Grazie a tutti.